A dove cominciamo ragazzi? Allora cominciamo intanto da chiarire una cosa che ci tengo a mettere a inizio video e prima di partire col discorso perché stasera non è andata come volevo, non è andata come speravo, non è andata neanche come pensavo onestamente però ci tengo a mettere cose in chiaro quando il Milan per 4 stagioni di fila ha vinto la prima partita tutti a gridare la prima di campionato, attenzione il campionato è lungo quando il Milan non vince la prima di campionato si tende subito l'avevo detto, squadra di bidoni, mille seghe che poi affronteremo la coerenza, la coerenza è prima giornata di campionato quando vinci è prima giornata di campionato quando pareggi è prima giornata di campionato quando perdi ed è calcio d'agosto quando vinci ed è calcio d'agosto quando perdi ok? ci sono squadre che iniziano bene e finiscono male, ci sono squadre che iniziano male e finiscono bene al momento non so dirvi a differenza dell'anno scorso che già la prima di campionato nonostante avessimo vinto 2-0 ho detto quest'anno finisce male quest'anno vi dico, non so darvi un parere trasparente su quello che succederà però posso tranquillamente dirvi che ci sono degli aspetti positivi e degli aspetti negativi la cosa che più che altro mi rammarica più di ogni altra cosa sono gli aspetti negativi che superano almeno in questa partita perché poi ce ne rimangono altre 37 mi rammarica perché gli aspetti negativi sono in stragrande maggioranza rispetto agli aspetti positivi purtroppo mi tocca ammetterlo, ma è la verità gli aspetti negativi sono intanto partendo dai singoli singoli che li ho raramente criticati l'anno scorso perché avevamo un allenatore che i singoli non li sapeva gestire quest'anno abbiamo un allenatore che i singoli li sa gestire di più però mi rendo perfettamente conto che un giocatore su cui abbiamo puntato tanto che è Ciao non vi dico che sia il momento di fare le valigie però sia quello tecnicamente nel reparto difensivo più indietro rispetto a Calabria è vero che la squadra perdon la società ha messo a posto tra virgolette un rimedio ha speso 13 milioni per Emerson Royale che stasera per motivi burocratici non ha potuto giocare se no tranquilli che avrebbe giocato c'è Pavlovich che non ha raggiunto ancora la forma fisica necessaria poiché ha fatto preparazione atletica con un'altra squadra che anche lui prima di avere soprattutto i 90 minuti nelle gambe ha bisogno però è anche vero che certi individui quando ehm li mandi in campo devono essere chiamati a far bene è vero che esistono titolari riserve per un motivo però ehm la squadra dovrebbe in un universo utopico ehm fare bene tutta questo dovrebbe essere parlando di di cose più più terrene se devo trovare una nota positiva la trovo sicuramente nella voglia del Milan di almeno pareggiare questa gara eh nonostante abbia magari anche provato a vincerla però i minuti erano veramente scarsi quelli rimanenti però come vi dissi l'anno scorso dopo diverse partite dopo quella serie di partite che abbiamo vinto per culo Udine e Genova Frosinone vi dissi non abituatevi a queste partite perché oggi l'hai vinta oggi l'hai ripresa domani non è così e quindi voglio riprendere ciò che dicevo l'anno scorso sotto questo aspetto e lo voglio tranquillamente riproporre quest'anno il Milan fa piacerissimo che abbia recuperato la partita sono il primo a essere felice sono il primo a dire beh in effetti questa squadra la voglia la grinta ce l'ha messa però sono anche il primo a rendermi conto che oggi l'hai potuto fare domani non lo puoi più fare perché una volta è un caso 2-3 non lo sono più perché tu a Parma consapevole anche della partita che hai fatto oggi tu devi andare a Parma e chiudere la partita in mezz'ora nonostante il Parma sia una grande squadra sia tutto quello che vi pare però quello che vi ho ripetuto l'anno scorso se tu punti gli obiettivi che hai dichiaratamente detto di voler puntare squadre come Torino come il Parma come il Lecce come il Venezia devi chiudere la partita in mezz'ora arriviamo alla nota più dolente e più frustrante della serata che sono i due esterni Samu il Cicuueze e Raffaele Au allora se devo dare una colpa all'allenatore posso dare quella di non aver tolto Cicuueze all'intervallo perché Cicuueze i primi 20 minuti ha mandato quattro palle di rimessa laterale dove proprio è mancato direttamente lo stop della palla cioè non è che è mancato il saltare l'uomo è mancato lo stop bene o male prima ci si è messo se le makers poi ci si è messo Okafor e Okafor è stata la stoccata vincente che a questo punto mi fa diciamo mi tira fuori un altro aspetto positivo della serata che è stato quello che l'allenatore è stato in grado di leggere la partita perché se Pioli metteva tutti dentro Fonseca bene o male ha messo tutti dentro con un senso ha cambiato i ruoli prima ha fatto ha tolto Benaserra ha fatto avanzare quell'altro poi ha messo Musa ha fatto una serie di 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 ravogli che si sono rivelati almeno per recuperare la partita poiché il 2-0 è arrivato che mi sembra che alcuni cambi non fossero ancora stati fatti si sono rivelate delle mosse vincenti questo va detto l'altra nota appunto stonatissima è stato Raffaeleau ragazzi Raffaeleau stasera io penso io mi auguro che questa sia la sua peggiore partita della stagione siamo alla prima partita perché io un Leau così spento non spento diciamo un Leau pesce fuor d'acqua perché forse questo è il termine più corretto un Leau così disorganizzato faccio fatica a ricordarmelo io mi ricordo di un Leau con Pioli inesistente in campo che non strusciava un pallone che non saltava un uomo mi ricordo anche un Leau che faceva la strappata e andava a fare gol oggi ho trovato un Leau che della serie non so dove mi trovo tu hai se tu hai delle occasioni e questo vale anche per Pulisic come cura dopo dieci minuti con la palla che ti è rimbalzata davanti ai piedi a portere battuto come l'occasione quando sei partito in profondità grandissima parte del portiere tra parentesi come l'occasione di Pulisic quando la difesa gli ha regalato palla gli ha regalato la palla nello stesso modo nello stesso modo in cui Di Marco la regalò a Bayrami all'europeo la dinamica era la stessa quelle tre occasioni se riprendo ciò che ho detto un minuto e mezzo fa se ti chiami Milan se punta gli obiettivi che hai dichiarato di puntare tu questi sono gol non fatti ma da fare sono gol che tu fai non è che ti deve venire il dubbio no tu sono gol che fai Leo c'è quella palla davanti il portiere Milinkovic Savic ha fatto una palla della madonna perché ha indovinato l'angolo va bene però tu devi fare gol lo devi fare ti rimbalza la palla davanti tu spacchi la porta sia morata che Okafor gli è capitata la palla botta in porta istinto da rapace dare ragazzi Leo stasera non ha avuto niente di tutto questo poi mi è stato arrivato mi è arrivato un messaggio rigore non rigore per me il contatto c'era per me era più rigore sì che rigore no però ripeto il problema principale della serata è che abbiamo dovuto aspettare l'ottantottesi un minuto per vedere concretizzare qualcosa quindi rigore non rigore la cosa diciamo si sgretola si sgretola ora io non ho idea di cosa possa riservarci il futuro sarà una stagione complicata sarà una stagione difficile sarà una stagione dove ci incazzeremo parecchio però magari chi lo sa qualche soddisfazione in più dell'anno scorso e ci vuole veramente poco perché metti zero titoli anche quest'anno ma anche con zero titoli ti levi più soddisfazione dell'anno scorso forse forse può darsi che ce la toglieremo è la prima di campionato la difesa traballa ancora vediamo se nuovi acquisti soprattutto con un mediano di fisico che ricorda che sì che dovrebbe fare filto a 100 campo speriamo che la musica cambi io ragazzi vi ringrazio ci vediamo su youtube domattina con la live reaction ci vediamo anche su tiktok perché adesso abbiamo preso il via già da marzo su tiktok e ci vediamo anche su instagram sul mio nuovo profilo quello calcistico ok like al video iscrizione al canale e domani che è domenica uscirà sia la live reaction che la carriera su fifa con il bradford grazie ragazzi alla prossima grazie a tutti